Vinsanto, annata 99, qui c'è magnesia, trebbiano e quasi un 10% di canaiolo. Vinsanto è 99, non lo so, non mi riuscirà più a fare un Vinsanto così. Se ti posso proporre una cosa senza tante chiacchierze, fa un bel applauso a questo Vinsanto, è un bel applauso a questo Vinsanto, un po' particolare, ci sorprende abbastanza, c'è questa frutta, sembra quasi frutta fresca, la bicocca, la confettura di pesca, molto intenso. Il colore, probabilmente dovuto al canaiolo, gli ha dato appunto un colore ramato, molto intenso, abbastanza ciropposo, dolce, sarà 250 grammi di zucchero, non lo so, sarà fatico. Se abbiamo la batata a prendo, perché altrimenti poi si rischia che diventi eccessivamente dolce, però direi che i profumi sono molto belli, c'è il miele di castagno, c'è appunto, diceva, la frutta secca, le mandorle, ci sono, ci si rivede, come? Sì, bello, veramente bello anche come riflessi, come... Un po' ovviamente c'è questa... probabilmente non ha tantissima freschezza, però questa frutta così piena in realtà non ce ne fa sentire la mancanza, no? Poi se il video è proprio fresco, lo aiuta, non si sente l'alcol, non brucia per niente, in fondo, probabilmente ho detto perché c'è un estratto talmente grande che chiaramente viene bilanciato dall'alcol in maniera molto buona e chiaramente potrebbe essere... questo qua è l'alcol anche da cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato al latte, anche per smorzare la mano di certe torte. Se una sacca e torte pensate come deve essere buonissimo, al di là di caso c'è veramente il vincanto, questo fa l'effetto del Perio Stimenez, che spesso si abbina con la sacca e torte, questo ci si avvicina abbastanza, potrebbe essere veramente interessante. Avete provato? No, domani sono a Viena, se vuoi te ne porto una, te ne porto una indietro. Stavo dicendo, me ne porti in una bottiglia, domani sera ve lo faccio sapere. Paolo, te che dici? No, poi ci sarai tutte e poi si chiama. Eh, quella si si chiudica insieme. C'è un naso anche un'altra, dicendente, amaroglio, la che mi ricorda un po' di scendina bambaro. Ah, è vero? Troppo breve. Sì, anche in bocca si sente. Ci vanno a notare che senti un po' di amaroglio, anche in bocca? Secondo me il 99, il Montelona, il 99 d'oro, è tuttora la migliore annassa che hanno fatto. È stata un'annata importante in Toscana che ha dato vini molto... A scoppio ritardato. Assolutamente. Ricorda Montalcino, qualcuno, tanti hanno detto che era un'annata negativa, invece poi è venuta fuori un'annata nettamente possibile. E questo vinsanto rispecchia l'annata, l'annata di cui i vini hanno avuto molta struttura. Qualque vino sembrava inizialmente avesse poca eleganza, erano vini molto di potenza. Nel vinsanto invece si è andate anche molto sull'eleganza. Trovo veramente che sia un bel vinsanto. Anche i vinsanti che ha fatto negli anni successivi sono importanti. Forse più talvolta del vino rosso che può aver avuto degli alti e bassi, il vinsanto suo è sempre stato un vinsanto di alta qualità. Il 99 ci ha portato il 99, sicuramente in Caltina ci hanno poche bottiglie, ci hanno fatto questo grande regalo. Grazie.